Sfruttavano quattro associazioni sportive dilettantistiche per evadere il fisco. In realtà dietro si celavano vere e proprie imprese commerciali che offrivano agli sportivi corsi di ogni tipo. Le strutture in questione operavano in provincia di Catania, in particolare a Pedara, Via Grande e Aci Castello. A scoprire la truffa allo Stato, gli uomini della Guardia di Finanza che hanno constatato, attraverso l'esame della documentazione contabile, la reale natura commerciale delle associazioni, le quali, anche se formalmente prive di scopo di lucro, realizzavano invece profitti distribuiti poi agli amministratori e ai componenti del Consiglio Direttivo. Dai controlli è emerso che tutti i frequentatori dei circoli sportivi, senza averne fatto mai domanda, figuravano inconsapevolmente come soci dell'associazione sportiva. Le quote da loro versate, annuali o mensili, venivano fiscalmente considerate quali contributi e, pertanto, illegalmente non tassate. Inoltre, le palestre controllate ottenevano guadagni dalle sponsorizzazioni rese a favore di diverse imprese del Catanese che versavano nelle casse degli enti somme soprattutto per l'affissione di striscione pubblicitaria all'interno delle strutture e per l'utilizzo da parte degli atleti di capi di abbigliamento recanti loro loghi. Un volume d'affari di oltre 2.800.000 euro che non sono stati sottoposti alla tassazione ordinaria prevista dalla legge per le imprese commerciali. Per le violazioni riscontrate, gli amministratori delle palestre sono stati segnalati all'Agenzia delle Entrate per il recupero di oltre 900.000 euro di imposte non dichiarate al fisco, tra dirette e IVA, e per l'applicazione delle relative sanzioni tributarie.